Il periodo è quello che è, in più tutte le spese sono tantissime e c'è con il fatto anche queste online, vari canali, a noi ci tagliano proprio. Anche noi lavoriamo con le persone, il pubblico, ma poi il Covid ci ha dato il colpo di grazia anche perché anche se non ci hanno fatto chiudere praticamente noi non lavoriamo perché chiudendo i bar, chiudendo i ristoranti noi ci ritroviamo a fare gli stessi, ritrovarci nella stessa loro situazione perché è un cane che si morde la coda diciamo. È stato più il Covid o la concorrenza dei mercati online? Guarda, è un po' lo era iniziato con l'online da prima e poi il Covid ci ha dato proprio la mano definitiva. Roberta, non c'è proprio nessuna speranza quindi di resistere? Io ne ho due, Fano e Pesaro. Quello Fano cerco di tenere duro e portarlo avanti. Non ho dovuto fare una scelta e Pesaro è quello che purtroppo sono stata costretta a chiudere per primo. Insomma spero di tenere duro con Fano. Un vero peccato, veramente un pezzo di storia del commercio pesarese che viene a mancare. Sì, anche perché sette anni fa ho fatto un investimento non da poco perché poi chi conosce la realtà dei franchising sono dei belli investimenti e purtroppo nessuno ti può venire incontro, già poco casa madre ti viene incontro e poi tutto il resto. E quindi diciamo che è anche quasi una sconfitta perché ci metti e come un bambino lo tiri su, lo cresci e poi alla fine... Immaginiamo le notti insonni prima di prendere questa decisione, Roberta. Io non so da quante che non dormo più. Mi sveglia la mattina presto per cercare di capire cosa poter fare.